Oggi siamo a Vienna, insieme con Chengdu, insieme con Shanghai, insieme con Vienna, abbiamo presentato ovviamente Trieste, abbiamo presentato dei progetti straordinari, veramente sono molto orgoglioso oggi di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo, il Porto Nuovo, il Porto Vecchio, quello che sta succedendo in città, oggi abbiamo probabilmente uno dei progetti più interessanti a livello nazionale e anche a livello europeo. Il Porto Vecchio sicuramente sta creando grandi attese, il Porto Nuovo, i cinesi veramente ci amano, oggi abbiamo avuto dei rapporti importanti, anche il Presidente dell'Unido ci ha accolto insieme ovviamente col Presidente Fedriga e abbiamo presentato una città straordinaria come la nostra e mi fa molto piacere comunicarlo a tutti i triestini. Grazie.